Ciao, sono Alex Piero, bentornati su GemTV. Il 19, 20 e 21 settembre al Legend Club di Milano si svolgono le finali nazionali di Rock Targato Italia, il contest che da ben 28 edizioni dà spazio alla musica emergente. L'unico requisito necessario è avere musica originale da proporre. Ovviamente quando si parla di buona musica, anche se emergente come in questo caso, noi di GemTV non possiamo mancare. Allora abbiamo incontrato Francesco Caprini, storico fondatore di Rock Targato Italia e attuale direttore artistico. Ci ha raccontato come è nato Rock Targato Italia, da quali idee, come si è sviluppato in tutti questi anni, ma soprattutto i progetti per il futuro. Rock Targato Italia nasce negli anni 80. In quel periodo c'è una scena musicale underground molto forte, che nasce nei primi locali rock, ma ci sono anche tantissimi centri sociali che producono e organizzano musica, musica live, cantata in italiano, in inglese, dal punk al post-punk. Dal nostro punto di vista, perché Rock Targato Italia nasce da un'idea di diverse persone, collegate anche a riviste importanti come Mucca e Selvaggio, dal nostro punto di vista, dicevo, c'era esigenza di dare a questa realtà, che era ancora un magma che si diffondeva a macchie d'olio, una forma organizzativa. Avevamo imparato attraverso esperienze di lavoro per quanto riguarda l'Ivinazione Milano, attraverso esperienze di lavoro che si traducevano in attività organizzate al Magia Museum Meeting, dove nasce Aglio Stadiotese, e al Prego Exodicea 2001, dove si organizzavano allora i primi concerti di gruppi inglesi. Avevamo imparato e avevamo capito che l'organizzazione era fondamentale. Quindi Rock Targato Italia nasce come esigenza di organizzare in modo strutturato e positivo gli artisti che a quel tempo avevano tanta energia, molta freschezza, tanta volontà, ma appunto poca conoscenza della comunicazione, dell'organizzazione e altro. Noi siamo giunti alla 28esima edizione, sono in questi giorni aperte anche le iscrizioni per la 29esima edizione. Il clima è molto cambiato, sono cambiati i tempi. C'è un clima che prima si lavorava solo con la stampa o in qualche caso anche con la televisione, oggi si lavora con l'elettronica. Ma quello che più è cambiato è l'atteggiamento mentale dei musicisti. Se mentre prima mancava l'organizzazione e se mentre prima mancava la comunicazione, oggi invece questa c'è anche in modo maggiore, ma viene vissuta in un modo delettantistico. Abbiamo sì tanta comunicazione, però è indirizzata solo a un settore, a un media, che è quello internet. Oggi i ragazzi sono coscienti e convinti che essere su internet vuol dire essere al centro del mondo. In realtà non è così. Negli anni 80 c'era una grande voglia di fare, c'era un grande desiderio di cambiare anche il mondo. Il rock era anche molto politicizzato, le tematiche erano sempre legati al mondo della collettività, del noi, dello stare insieme. Diversamente oggi quello che trovo nell'espressione musicale rock c'è più un riscorso endogeno che parte dall'io, che ricerca più un rapporto individuale, un po' nichilista. Questo porta un po' a vedere i concerti con dei protagonisti che sono conosciuti su un divano freudiano. Cioè raccontano le loro storie personali, a volte veramente misere, triste, a volte molto interessanti. Beh, io ogni volta penso sempre che sul palco quest'anno del Legend, siamo alla ventottesima edizione, ci essendo sempre dietro dei ragazzi curiosi, vivaci, che abbiano delle canzoni importanti. arrivano a tutta Italia. La speranza è sempre quella di trovare i Beatles. Tra queste edizioni certamente per me la più importante rimane l'edizione del 93. È un'edizione storica, da lì vengono fuori gli Estra, da lì emergono in Radio Fiera, da lì escono in Subsonica. Tra gli ospiti c'era Galimberti, che allora non avevano nemmeno un disco, perché successivamente fanno un contratto con la Blackout, credo appena dopo, perché tra il pubblico c'era Galimberti, che era il direttore artistico di questa etichetta, che è nata da una costola dalla Polygram, voluta probabilmente da Stefano Senardi, grande talento, genio dell'organizzazione dell'industria musicale italiana. Però tutte le edizioni di Rottergato Italia comunque suscitano per me e credo anche i miei collaboratori grandi interessi, perché il viaggio di Rottergato Italia non è solamente una storia legata al mondo musicale, ma è proprio una storia legata alla cultura italiana, cioè attraverso Rottergato Italia noi abbiamo avuto la fortuna e abbiamo la fortuna di essere una sorta di osservatorio privilegiato, vediamo le tendenze, le mode, avvertiamo i sacrifici degli artisti, le loro gioie, le loro passioni. In questo momento c'è un ritorno alla musica italiana, alla canzone d'autore e rispetto a due o tre edizioni fa si sta ritornando più verso noi. Hanno partecipato a Rottergato Italia credo 15-16 mila band, una media di 400-500 band a edizione. Diciamo che ci sono artisti che hanno partecipato a Rottergato Italia ma che non hanno vinto, tra questi per dirti Neuramaro, che sono stati esclusi nelle selezioni di Bari. Oppure Francesco delle vibrazioni, che è partito da un genere rock molto duro, la sua band dei Maiora si presentava come se fossero i ganzorosi italiani con la gonna, capelli lunghi, belli decisi e molto forti come immagine, poi è diventato un artista raffinato pop, non è necessario partecipare a Rottergato Italia. Se partecipa a Rottergato Italia sa che può avere accanto a sé uno staff di persone che lo possono mettere in condizioni operative, organizzative, molto più efficienti che sta da solo. Allora il trentennale sarà certamente un'edizione molto importante, non sarà certamente un'edizione celebrativa, però è anche vero che c'è una scena che in questo momento a livello underground sta esprimendo dei grandi risultati. Voglio ricordare a tutti quanti che quando parliamo di Rottergato Italia parliamo di un clima, ma tutti coloro i quali fanno un genere autentico e originale, che non è rock ma è affine, può comunque entrare nel mondo di Rottergato Italia. Non ci ho mai pensato a chiudere con Rottergato Italia, a chiudere con la mia attività, a chiudere con la musica, anzi ci stiamo allargando, il termine divinazione sta proprio a significare divi in movimento e quindi stiamo aprendo anche ad altre situazioni come l'arte, come anche l'editoria. No, non ci ho mai pensato, anzi ce l'ho di più, ho sempre creduto che producendo una realtà come questa, che comunque nel suo piccolo produce anche una sua economia, di avere molti eredi. Visto che avete avuto la pazienza di vedere e ascoltare questa intervista, vi ungo ancora un secondo per poter ringraziare tutti i gruppi che hanno partecipato a Rottergato Italia, i gruppi che parteciperanno, tutta la gente che collabora con Divinazione, i nostri promoter locali, lo staff di Divinazione e tutti quelli che attraverso la musica, l'arte e la pittura si relazionano con noi. Colgo l'occasione per ringraziare GenTV, il lavoro che sta facendo per la musica nazionale e internazionale, perché è un lavoro didattico che serve anche alle nuove generazioni a capire quali sono stati i giganti che hanno costruito il rock mondiale e quindi, a maggior ragione, grazie a GenTV di esistere. Ciao mondo, amici di sempre. Grazie a tutti